All'incirca dalle ore 12.40 di oggi, venerdì 10 febbraio, la neve è tornata ad imbiancare abbondantemente lucera, così come previsto dagli esperti. La nevicata senza sosta, durata fino ad ora, tre ore, ha reso nuovamente la viabilità difficoltosa e la visibilità è ridotta ai minimi termini. Le strade maggiormente trafficate sono avvolte da una poltiglia di neve e fango, mentre le arterie periferiche sono nuovamente impraticabili. Dopo l'abbondante nevicata di venerdì 3 e quella odierna di venerdì 10, cosa dobbiamo attenderci da venerdì 17?